E l'economia sociale in Piemonte impiega circa 57.000 persone aumentate soprattutto durante la pandemia ma c'è un problema, sentiamo quale, nel servizio di Fabio De Ponte. Il terzo settore in Piemonte ha retto all'impatto della pandemia ma c'è ancora molto da fare perché si integri nelle filiere del tessuto economico regionale. E il quadro che emerge da una ricerca realizzata dalla Camera di Commercio di Torino è da ISNET, l'Associazione per lo Sviluppo delle Imprese Sociali, su un campione di circa 600 imprese sociali e non. Secondo lo studio il terzo settore conta circa un migliaio di realtà, la metà delle quali a Torino. Nel 2020 ha generato un fatturato di 1,8 miliardi di euro, in calo del 3%, ma ha dato lavoro a 57.000 persone in aumento di quasi il 6. Insomma il Covid non lo ha fermato, anzi proprio il momento difficile ha fatto emergere quanto siano importanti le radici territoriali e le relazioni umane, punti di forza di un settore che ha tenuto in piedi tanti servizi con abnegazione. Però la pandemia ne ha illuminato anche la fragilità, soprattutto sul fronte della digitalizzazione e della stabilità finanziaria. E soprattutto ha fatto emergere chiaramente il problema della scarsa corrispondenza tra i servizi offerti dal terzo settore e le esigenze delle aziende. Secondo l'analisi il 21% delle società di capitale è interessato a servizi di grafica e stampa, ma solo meno del 7% delle imprese cooperative e sociali è in grado di offrirne. Problema identico ma rovesciato per quanto riguarda la formazione, solo il 7% delle aziende è interessata ma è pronto ad offrirne il 38% dei soggetti sociali. Ci sono poi i servizi di pulizia, oltre la metà delle aziende li cerca, solo il 16% delle imprese sociali è disponibile a offrire questo genere di servizio.